Non so tu, ma io una mattina, se non inizio il caffè, è finita. Sì, è l'inizio della giornata, ci vuole. Eh, ci vuole, ci vuole. È Alice! Ciao Massi, come stai? Benissimo Alice, appena preso il caffè. Volevo chiederti un consiglio sulla colazione, come sai faccio scherma e le giornate sono lunghe, ho bisogno di energia per partire. Mi servirebbe una ricetta, anche complicata, però veloce da fare. Una ricetta complicata, però la voglio veloce, sul veloce ci penso io, sul complicato ci pensi tu e il gioco è fatto. Ok, allora ci aggiorniamo più tardi, mi raccomando, eh, conto su di te. Alice, devi stare senza pensieri. Bravo! Ci vuole un piatto che comunque sia completo, perché lei si deve allenare per un paio d'ore. Infatti. Cosa hai in mente? Oggi ho pensato di fare un club sandwich con l'arrosto di tacchino a fette amadori, che secondo me proprio viene un piatto molto completo. Ok, ingredienti principali? Sono il pan carré, il bacon, la lattuga, il pomodoro tagliato a fette, le uova che verranno utilizzate per fare una frittatina da mettere in mezzo. La parte più importante è che l'arrosto di fesa di tacchino a fette amadori, qualità 10+. Lo andremo a finire con una salsa allo yogurt aromatizzata con un po' di aceto di lamponi, che gli darà un po' di freschezza al nostro club sandwich. Ovviamente due porzioni, uno per alice e uno per me. E io? Allora ci facciamo tre. Ok. Cominciamo dal pane, lo spennelliamo leggermente con un po' di burro, poi andiamo a metterlo al forno così diventa tostato. E mentre tu inizi a spennellare il nostro pane, io vado a farmi giocciare con il nostro nutrizionista, poi torno subito da te. Va bene, ti aspetto. Adesso il pane è imburrato e vado a metterlo in forno a 180 gradi per 5 minuti, così diventerà bello tostato e croccante. Una buona strategia che io utilizzo è quella di inserire a tutti i miei atleti una fonte proteica a colazione, franzo e cena. Il sandwich che state preparando direi che è ben bilanciato. Avete inserito l'arrosto di tacchino a fette, che dà una buona carica proteica per bilanciare il pasto, ma soprattutto per rendere anche il pasto più saziante. Quindi avete fatto un ottimo lavoro. Complimenti. Andremo ad aggiare le uova per preparare la frittata. La mettiamo un attimino in forno, sempre a 180 gradi, così va a ottimare la cottura. Adesso noi andiamo a rosolare il nostro bacon. Andiamo il nostro yogurt. Andiamo leggermente ad aromatizzarlo con un po' di aceto di lampone. Ecco, il nostro pane è pronto, è leggermente tostato e adesso andremo a montare il nostro clare sandwich. Prendiamo la prima fetta di pane, andremo a metterci un po' nella nostra dressing di yogurt che abbiamo fatto prima con l'aceto di lampone. Andiamo ad aggiare il pomodoro. La nostra frittata e lo adagiamo di nuovo sulla nostra placca. Così facciamo con tutte e tre le fette. Ecco, adesso andiamo a fare la parte più importante del clare sandwich. Mettiamo le fette di arrosto di tacchino madori, che gli danno completezza e sapore al piatto. Alla fine gli daremo ancora una piccola tozzatura in forno per dargli il calore al piatto. Eccoci, si sente già un buon profumo. Ci manca solo l'insalata, l'insalata va fresca. E andiamo a chiudere con l'ultima fetta. Chef, ma sono arrivato proprio al momento giusto. Appuntino. C'ho una fama, Chef. Farai tutto la cavia? Aspettaci, Alice. Cosa vuoi adesso, Alice? Che si mangia? Puoi assaggiare il piatto per me e almeno mi dici com'è venuto? Ma che sacrificio mi chiedi, Alice? Lo faccio solo per te. Mi vale appena, eh. Applausi, applausi. Passaggio, applausi. Grazie a tutti.